governo giorgetti draghi come ronaldo ma il leader della lega pone quasi un out out conferenza stampa congiunta salvini giorgetti al termine della segreteria politica della lega l'annuncio sembra preludere al semaforo verde per draghi mossa strategica non solo opportuna ma necessaria per bloccare il tentativo in corso di trasformare il governo di tutti in un governo a maggioranza ursula la posta in gioco nel primo giorno di consultazioni è questa chi imprimerà il proprio marchio sul governo di super mario luigi di maio e beppe grillo si sono mossi per tempo giuseppe conte ha fatto la sua parte a destra silvio berlusconi ha saltato il fosso dopo una riunione infuocata mara carfagna scatenata ha spezzato e 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